Salone delle feste del circolo artistico di Arezzo, la compagnia teatrale siamo un pezzo avanti, oh ma passano tutte di qui, quando? Il 7 di gennaio alle ore 21 presso il Salone delle feste del circolo artistico. Di che cosa tratta questa commedia? È una commedia fuori dell'usuale, è fatta di personaggi strani che passano davanti a altri due personaggi strani che si accaparrono i giornali sul banco di un bar, due perdigiorno che stanno lì dalla mattina alla sera a vedere questa gente che li passa davanti, creando degli sketch e delle gag abbastanza esilaranti. Nella compagnia siamo circa 20 persone, quindi siamo abbastanza direi. Vi divertite anche, mi immagino, la guardo. Certo, è una compagnia che è nata proprio per divertimento, anche se poi la finalità degli eventi che andiamo a creare è a scopo benefico, però la prima cosa è che ci divertiamo. Il circolo artistico è da sempre disponibile per questi atti di beneficenza? Sì, il circolo apre soprattutto a questa manifestazione, felice di avere tantissime persone nel nostro salotto di Arezzo. Diciamo tutto quello che viene raccolto nella sera del 7, poi verrà devoluto all'Oxfam. Sì, verrà devoluto per l'esattezza la campagna Sfido la fame di Oxfam, che è un movimento globale di persone impegnate a lottare contro l'ingiustizia della povertà, su vari fronti, in particolare anche appunto sul fronte della fame. e come investendo, in modo particolare, investendo sulla donna, sulla figura femminile che è centrale all'interno del mondo rurale in ogni parte del mondo e quindi garantendole diritti, garantendole formazione, istruzione e accesso alle risorse e alla terra. E quindi diciamo grazie insomma per tutti coloro che hanno reso possibile organizzare questa serata benefica.